C'era di rinnovamento nel PD del Lazio, domenica 19 febbraio si terranno infatti le primarie per scegliere il nuovo segretario, un appuntamento atteso dopo il difficile periodo di commissariamento che ha vissuto il regionale. Il PD del Lazio è un partito molto particolare, molto ricco, vario, con un dibattito serrato al proprio interno e questo ha condotto alla costruzione di alcune candidature che hanno dei profili assolutamente innovativi, originali, delle candidature che offrono molti spunti di riflessione e credo che possono aiutare a favorire un'ampia partecipazione. Le primarie di norma hanno sempre suscitato grande attenzione, per la prima volta testiamo delle primarie soltanto regionali e questa è una novità anche in ambito nazionale. Tre candidati in corsa, provenienti da storie e ambienti diversi, ma tutti uniti dalla voglia dell'innovazione. Il partito che io immagino è un partito molto organizzato sul territorio, legato con gli eletti, ovviamente aperto, capace di intercettare i movimenti che chiedono nuovi diritti, le esperienze civiche e di ricostituire quel tessuto che all'inizio il partito aveva avuto nella sua nascita, perché scelga parlamentari non nelle segrete stanze ma direttamente con le primarie. Che cosa proponete? Tutti gli osservatori sono accorti che tutte le capolista sono donne e questo vuol dire che ci saranno più donne che uomini che escono dalle nostre liste quando ci saranno le elezioni del 19 febbraio, l'altra è che nessuno di loro, o quasi nessuno, è eletto funzionario di partito o comunque già presente in ruoli di responsabilità nella politica del PD. Io ho provato a definire quello che secondo me deve essere il partito, un partito che sia trasparente, serio, concreto e tra i primi punti che porterei avanti sono sicuramente una campagna contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, una campagna sulla sostenibilità della nostra regione, quindi dal punto di vista ambientale ma anche dei trasporti e poi una campagna sulla trasparenza del nostro partito. Una campagna impegnativa, realizzata come al salito grazie anche all'aiuto dei volontari e in questo caso soprattutto low cost. Abbiamo scelto di fare una campagna molto molto colorata, calda, abbiamo utilizzato molto i social network, abbiamo utilizzato molto il sito web pdlazio.it, abbiamo speso pochissimo perché abbiamo pensato che era corretto in questo momento informare, informare bene ma cercando di utilizzare le risorse giuste, quindi senza fare grandi campagne, non abbiamo stampato manifesti, non abbiamo imbrattato la città. Il confronto si giocherà tutto domenica 19 febbraio presso i vari circoli del PD del Lazio dove tutti i militanti saranno chiamati a fare la loro scelta per il nuovo segretario. Il mio avversario Gasbarra ha definite una primavera di idee e direi che questa è la vera specialità, il vero vantaggio di avere portato anche ai cittadini la discussione, cioè quello di portare a tutti una discussione sul PD di domani nel Lazio che deve ritornare a vincere a Roma e poi la regione e poi le politiche. In questo momento è un miracolo politico che solo un grande partito come il PD può mettere in campo e ci sono state persone che hanno avuto voglia di candidarsi, di mettersi in gioco, ci sono per la prima volta un'energia nuova che è rappresentata dai figli degli immigrati, gli italiani di seconda generazione, che sono una potenza, un'energia straordinaria. Andare a votare per cambiare un partito che qualche difetto ce l'ha e che va superato, un partito che vuole ricominciare a guidare Roma e il Lazio. Intanto andiamo a votare in moltissimi comuni della provincia e della regione e le sfide poi saranno da qui ai prossimi anni.